Per Antonio Quartuccio un debutto in assoluto nell'amministrazione comunale, durante la campagna elettorale aveva le idee chiare, adesso? Ancora di più. Le prime cose da fare, ricordiamocelo. Tante sono le cose da fare, vediamo quali saranno le priorità al tavolo delle presidenze del Consiglio, l'interesse del Sindaco, non faremo altro che sposare e aiutare il Sindaco e l'Aggiunta nell'espletamento di tutte le funzioni. Adesso siamo quasi vicini, anzi no, siamo già in piena stagione estiva, la città è da migliorare soprattutto dal punto di vista estetico, ci sono zone addirittura che sembrano anche abbandonate quindi in questo senso bisogna fare attenzione e darsi da fare da subito. Eravamo abituati a una grande attenzione della precedente giunta, c'è stato un momento di passaggio che per causa di forza maggiore probabilmente ha così distolto un attimino l'attenzione, l'attenzione ci sarà, ci sarà un'attenzione importantissima nei confronti di questa città che comunque merita un posto di primo piano nell'ambito del panorama meridionale. Bene, intanto in bocca al lupo e poi avremo modo comunque di approfondire quelle che sono le tematiche che riguardano la città. Grazie.